Ricordo che da piccolo io ero un bambino normale, io e Ken che grandi amici, tutte le sere a puttane, con la Ferrari rossa e i suoi grandi occhioni blu, 50 lire l'ora per Barbie in Malibu. Ricordo che a 12 anni salivo su 77 a bis, sbavavo tutto il viaggio guardando le milf, ricordo che ero piccolo per le mamme, ma ormai la taglia XL non mi stava più grande, parlo delle mutande. Passano gli anni, arriva l'estate con il motorino, volavo sfrecciando verso il bar di Gino, prendevo il giornale e iniziavo a sfogliare, tra le pagine cercavo un a-a-a-affare. Ciao ciccio, io stai dietro al monumento, finisci col vecchio che dopo entro, mi rendo conto che forse sono un po' aggressive, ma se mi arrabbi un poco io mi attacco tipo stanzi, l'aggressive si nasce e ci vieni nel mondo quando sei ancora in pace. E' una vocazione per la vita, come un piole fisso c'è solo la figlia, con la midica appunto JLX, me ne andavo in centro masticando in Twix, becco per la strada due miss, mi fermo e dico Ula, vi posso offrire un drink? Forza tutte su, da medico, voglio vedere le tunzille? Antonella la barista dell'Orma in Ottobar, mi spara tra i nevroni e inizia a viaggiar, vedo Belen disegnata su un poster e subito divento agressivo tipo Dexter. Corso Antonella con lo sguardo da lince, saranno le bottiglie ma il naufragarmi è dolce in mezzo alle sue bocce, mi rendo conto che forse sono un po' aggressive, ma se mi arrabbi un poco io mi attacco tipo stanzi, l'aggressive si nasce e ci vieni nel mondo quando sei ancora in pace. E' una vocazione per la vita, come un piole fisso c'è solo la figa, in stile super figo mi recola disco, trovo la pista giusta e mi ci mischio, becco culo d'oro e mi ci struscio, ecco il mio latte aggressive che esce da guscio, la porto sull'uscio e le sussurro all'orecchio, stasera ti sfascio. A un tratto mi trovo il ragazzo alle spalle che grida, a ciccio adesso ti stacco le palle, mi, 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 mi volto nel volto gli do una testata, lo stendo e l'avviso, ah bello la tipa è la mia per questa serata, ma come esco fuori una bella sorpresa, vedo l'appunto che viaggia a sospesa. Domani orario di ufficio, porti 100 euro e la macchina è resa, serata puttana e la tipa mi scarica, mi smonta la carica, non me vorrei mica far camminà, ma per carità. Rientro a casa un po' scoglionato, porcaccia la troia ci avevo sperato, metto il pigiama al mio lato aggressivo, mi sdraio nel letto tirando un sospiro. Serata di merda ma chi se ne frega, so chiudo gli occhietti e mi sparo, ah. Questa è la storia di un uomo aggressivo che esce di notte facendosi il figo, a un tipo reattivo gli basta un sospiro, ragazza stai attenta se capiti a tiro. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!